Mi sono assunto alle mie responsabilità, ho verificato i fatti personalmente con un sopralluogo dentro ai reparti e chiesto pubblicamente scusa per i disagi. Ma non finisce qui, ho incaricato al direttore amministrativo di condurre un'indagine per valutare le responsabilità ad ogni livello. Aldo Ricci, direttore generale di Marche Nord, è determinato ad arrivare in fondo ed oggi ha fatto il punto della situazione durante una conferenza stampa. È stata infatti affrontata insieme ai tecnici e ai dirigenti ospedalieri l'emergenza che ha colpito due reparti nel padiglione F del San Salvatore creando evidenti disagi ai pazienti e agli stessi operatori sanitari. Problemi di minore entità sono stati riscontrati anche nel padiglione C del Santa Croce in medicina seconda e il lungodegenza spostata in geriatria che è totalmente condizionata. Per Pesone invece la situazione è stata peggiore perché ci siamo trovati all'interno di un intervento di ristrutturazione globale del padiglione F e in particolare dell'area che ospiterà la nuova ostetrice ginecologia che è slittato dalla fine di maggio per problematiche che sono in corso d'accertamento. Ho detto che abbiamo nominato un'indagine amministrativa interna per capire il perché e le eventuali responsabilità, anche esterne, visto il danno di immagini enorme che è sorto, al 10 a oggi. Nel senso che oggi se non accadono eventi eccezionali viene collegato il nuovo impianto di climatizzazione, quindi sia la medicina che l'ostetrice ginecologia dovrebbero essere da oggi completamente climatizzate e quando tornerà la pediatria a Pesone il 10 agosto troverà la climatizzazione. Tenete conto che Pesone non ha mai avuto la climatizzazione storicamente né per la pediatria né per l'ostetrice ginecologia. Abbiamo anche acquistato climatizzatori portatili, ha proseguito Ricci. Si tratta di 39 attrezzature per un costo complessivo di circa 14.000 euro che verranno in seguito utilizzate per dare refrigerio in zone prive di climatizzatori oppure dove è insufficiente come negli atri. Ulteriori condizionatori portatili, prima per far fronte all'emergenza della medicina di Pesaro e della medicina di Fano, poi per far fronte all'emergenza dell'ostetrice. Alcuni di questi, più della metà, penso li utilizzeremo già in corso d'opera. Gli altri li teneremo per l'emergenza perché, come ho detto nella conferenza stampa, mentre vi parlavo, stanno arrivando notizie di tutta Italia, soprattutto del nord, con blocchi da Biella a Modena, da Reggio ad Arezzo, delle attività purtroppo importanti, operatorie eccetera, per il grande caldo.